ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale io sono simon 38 e oggi vi porto un video diverso di quelli che faccio di solito il mio canale si compone di modellismo e ashen figure manga e tante altre cose ma oggi voglio portarvi dei le cose su questo canale per i vostri figli se siete genitori o per dei fratelli che possono fare regalo a delle sorelle o a dei bambini più piccoli questo video è fatto perché come me avete un figlio o che avete dei figli voi potrete fare dei bellissimi regali e fargli imparare tante cose belle perché mio figlio si sta divertendo con questa collezione che guardate qua è già stata aperta perché mio figlio non appena l'ha visto ho dovuto subito aprirlo non mi ha dato neanche il tempo di farvi fare il video questa è la storia dalle fattorie guardate qua che bellissima dietro qua è tutta completa con i personaggi qua voglio continuare con le magiche storie sonore che avevo già fatto un video se l'avete perso andatelo a recuperare questi sono i quattro volumi guardate qua adesso andiamo a vederli nel dettaglio ma prima di andare nel dettaglio vi ricordo di lasciare un like un'iscrizione perché questo video lo faccio per voi amanti dei vostri figli allora ragazzi eccoci tornati qui con i libri delle magiche storie sonore e questo è il numero 31 gli altri 30 li abbiamo già recensiti in un video che ho fatto in precedenza questi sono veramente belli qui abbiamo la 31 con le avventure di bianche berni guardate qua che bello il libro è sempre bellissimo qua vi racconta la storia qui abbiamo il personaggio che sono i due topolini della disney qui abbiamo sempre il magic box perché questi quando tu li appoggi qui accendiamo la cassa guardate cosa fanno inizia la magia e guardate qua le avventure di bianche berni la palude del diavolo è un luogo che mette i brividi e la piccola penny una dolce bimba che non si separa mai dal suo orsacchiotto non dovrebbe certo essere lì ora sta infilando un messaggio in una bottiglia che affida alla corrente spera con tutto il cuore che qualcuno lo trovi e venga a salvarla intanto la scampata bella perché i due alligatori che hanno il compito di sorvegliarla non si sono accorti di niente ragazzi qui vi ho fatto sentire la prima pagina che potrete seguirla con così e questa era la trentunesima uscita qui abbiamo la trentaduesima no la trentatreesima uscita se non mi sbaglio andiamo a leggere si la trentatreesima uscita che è inside out e anche questo ve lo faccio sfogliare velocemente guardate qua il firme lo conoscete perché è sempre stupendo mio figlio queste cose le adora tantissimo quindi se siete genitori o siete fratelli o siete nonni o siete zii potete recuperarli questi volumi in edicola se il vostro edicolante non ce li ha andatelo a richiedere su www.primedicola scrivete magiche storie sonore e poi andate a cercare la storia che più vi piace qui abbiamo side out e anche questa si mette qui e inizia la magia questo è side out quindi inizia a sentire la storia qui abbiamo la trentaquattresima che è Mulan anche questa vi faccio sentire qui l'inizio quando dice il personaggio Mulan e questa era Mulan questo vi faccio vedere all'interno che non vi ho fatto vedere comunque la storia penso che la conoscete tutti questo è Mulan dentro devo dire che sono fatti davvero benissimo guardate che belli e tutta dentro c'è la storia non sto qua a sfogliarla se no facciamo notte qua abbiamo invece Coco che anche questo è fatto davvero bene e questa è la trentacinquesima uscita delle magiche storie colonne sonore guardate qua questo è questo è il magic box sempre e questo è il personaggio Coco a santa ceci quindi questi personaggi che vi ho fatto vedere potrete trovarli in edicola chi sono gli ultimi usciti e se vi siete persi il video degli altri volumi che ho fatto andate a recuperarlo ma adesso questa è una bellissima storia perché sono delle bellissime storie perché i vostri figli come mio figlio li adora li sta sempre a sentire ma adesso vi voglio mostrare una collezione che è uscita da poco allora qui abbiamo il cartonato guardate che bello che ho qui allora qui c'ho gli animali della fattoria questa è un'altra bellissima iniziativa sempre della di Agostini che propone per i vostri figli o fratelli o nipoti se siete nonni o se volete regalarlo a qualche bambino o a qualcuno sono delle belle storie siamo arrivati alla seconda uscita perché questa guardate non ho avuto neanche tempo di farvelo aprire in diretta perché mio figlio appena l'ha visti l'ha voluto aprire immediatamente allora la seconda uscita costa 9,99 euro invece la prima uscita costa 1 euro ma adesso vi farò vedere cosa comprendeva allora la prima uscita comprendeva questa mucca che è fatta in gomma e comprendeva praticamente il pozzo il pozzo questa seconda parte perché questo qua si stacca questa seconda parte invece viene data con la seconda uscita nella prima uscita avevamo anche un libricino guardate qua che bellissimo questo è il libricino della mucca dove i vostri bambini possono leggere e imparare tante curiosità su questo animale perché comunque sono davvero belle queste storie a me piacciono tantissimo perché sono dei libri veramente dove un bambino può imparare tante cose guardate qua che bello qui invece abbiamo il cavallo che ci veniva data con la seconda uscita che è questo anche questo sempre di gomma questo è il volume è il libricino che anche questo si può imparare tante curiosità su questo animale e comunque si può imparare tante cose giocando e divertendosi quindi in ogni uscita troverete un animale un animale e parlante e un libricino questo invece è quello che ci fanno vedere nel piano dell'opera invece qui guardate cosa succede se io appoggio la mucca sopra qui e qua vedete che c'è un bottone sentite i tre versi i tre allora aspettate qui la accendiamo perché era spento qua mi ha girato la mano e adesso proviamo questo era il verso poi c'è un'altra funzione basta il segreto di Emilia la mucca di Celestino questo è il verso poi se spostiamo come mucca ciao mi chiamo Emilia e sono una mucca allora qui avevamo le tre se lo sposto verso sinistra ti racconta la storia di Emilia in mezzo il verso e a destra ti parla di quello che fa la mucca Emilia qui abbiamo il cavallino che si chiama Agostino sentiamolo che qua allora prima con il verso questo è il verso per fortuna c'è Agostino nonno Ferdinando è molto legato e qua il cavallo ciao a tutti mi chiamo Agostino e sono un cavallo vieni con me allora ragazzi non ve le faccio sentire tutte perché se no staremo qua a perderci troppo tempo comunque spostando la destra ti racconta la storia del cavallo no scusa a sinistra la storia del cavallo in mezzo il verso dell'animale e a destra quello che fa il cavallo ti racconta una storia comunque questi volumi sono davvero fatti bene mio figlio come ripeto le adora e gli piacciono per imparare e per poterli fargli leggere guardate qua che bello quindi questo video lo dedico a chi ha figli e chi come me ha un bambino che gli piacciono leggere imparare quindi questa è una bellissima collezione che potrete fare con Di Agostini basta che andate o sul sito di Agostini per leggere come fare l'abbonamento o se no correte in edicola e prendete questi volumi io vi ho mostrato quello che c'era da mostrare adesso vi saluto e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale perché ne porterò tanti diversi di video anche per bambini quindi ragazzi io vi saluto da Simon88 ciao